e salve a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video siamo tornati su trago bozzetta doc campato versione global perché finalmente anche se non è che sono così entusiasta sono usciti gogetta blu e bro allora pg parliamone allora subito veloce easy easy pg che tra due settimane tra due settimane dimenticherete perché perché si sono bellissimi le special sono belle fanno i danni però averli non averli ora come ora non fa differenza qualche mese fa forse sì ma forse adesso averli non averli ok se li hai bene se non li hai ci passi avanti perché gogetta gl bellissimo pg crit al 100% quando diventa blu ok ability free fa già i danni leader ce ne sono altri due gogetta lr ok ecco non sono gli stessi pg ok va bene usatelo come amico siete a posto avete finito di pullare su gogetta uno broli leader full power e leader moviboss ok non giocherete mai un doppio moviboss perché a mio parere è 10.000 volte meglio un doppio tharles e volete mettere la leader skill più il buffer del 40 per cento quindi diventa l'ottanta non ha i guagli broli lo usate solo nel torneo se proprio volete lo usate nel team proprio se volete come amico ma secondo me ci perdete usalo come amico cioè nel senso doppio tharles per il moviboss almeno vi parlo per il moviboss per il full power è un altro discorso per il moviboss non userete mai il doppio pro di mani non ha senso però comunque le le special sono veramente belle hanno fatto delle special tra loro due black culera gl veramente belle peccato per l'anniversario che le special di cocco vegeta lr bandai fanno cagare invece con loro due sono dati cioè guarda che bella mamma mia attura ancora meglio minchia qua ti distrugge allora cosa andiamo a fare oggi andiamo a vedere un po' gli eventi vi dico allora io ho già fatto off camera una multi qua da 25 sia su gogetta sia su broli non abbiamo trovato niente su su gogetta abbiamo trovato vegeta quello lì che diventa god quindi qualcosa ci siamo portati a casa comunque è arrivato il dual il dual si vabbè il dual di gogetta però lì perfetto il banner con gli elder kai non fatelo cioè tenete 25 stone tenetevele l'evento di tapion farmatevi i flauti che possono sempre tornare utili abbiamo il duo abbiamo i due eventi che dovremmo fare andiamo a fare gogetta comunque andiamo a farlo l'extreme z awaken che è una cavolata se avete gogetta lr leader così usate un gogetta lr un gogetta agl amico e la fate subito la fate due minuti l'evento di goku è stato aggiornato quindi adesso possiamo portare a tour sia broli che freezer che goku perché vegeta si poteva già e possiamo portare a livello 140 che diventano pg meravigliosi diventano i free to play più forti del gioco ragazzi quindi fateli 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 nuove missioni vabbè per adesso un cazzo neanche un regalo niente di niente andiamo a fare l'evento dai l'ho già fatto e posso dire che è veramente easy l'ho fatto con col metamore con gogetta agl amico quindi alla fine come team ci sta giustamente abbiamo la connessione che va a nostro favore sotto periodo dai non riesci a scaricarmi neanche ah sapete cos'è sono collegato a wifi si sto scaricando come si chiama quel gioco lì che è uscito nuovo tipo fortnite epics epics legend allora la presi per tutto wifi bastarda di una prestazione non mi dica che ho 4g dai ho 4g di ecco ok vabbè qua stavamo facendo un po' di roba comunque vedete si è aggiornato allora andiamo a fare gogetta ho fatto 25 stabile comunque è una cosa molto easy quindi usiamo un superint ci usiamo un bel regito full ability non dovremmo avere neanche bisogno degli oggetti in teoria quindi comunque ragazzi ho già scritto sulla mia pagina di facebook un po' ho chiesto il vostro parere su come è andato il dual su cosa ne sembrano dei pg anche qua sotto nei commenti ragazzi fatemi sapere cosa avete trovato come vi è andata se avete sculato io sul jump adesso con 5 stone mi sono usciti satan sopra v io ho tutto emozionato pensavo che fosse l'lr era sul banner di Goku GL pensavo fosse l'lr pensavo fosse l'lr perché comunque sapete che sto giocando Vegito e lo voglio in singola alla fine cosa è uscito? Goku quello Evo quindi alla fine diciamo che ero già lì che tremavo cioè non ci facevo più stavo tremando però da lì ho capito che che satan sopra v questo banner in questo anniversario vuol dire PG to camp festa l'ho pagato le mie spese quindi va bene allora partiamo un po' di merda però va bene neanche la special con Barda che riusciamo a mandare comunque Zamasu veramente un pg bellissimo mi piace un sacco usarlo però vabbè mi dispiace solo che quando troverò Rosè devi andare mi dispiace Zamasu per te però te ne devi andare 100.000 siamo a 509.000 di vita io vi porterò magari un video sul jap dove vi mostro il mio purseyan da 520.000 di hp e posso fare ancora di meglio che schifo non compare niente e mandiamolo così devo fare che schifo cioè ma come devo mandare le special non lo so quindi black ma quanto ti vuole l'ability qua sul global quanto mi fa emozionare l'ability 1 sul jap solo tu lo sai e i big guy bellissimo qua come dici l'unica cosa che mi dispiace ma tanto 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 che abbiamo così tanti spoiler su sto film minchia pure la che penso che la special sia una delle mosse che usano i film penso stessa cosa di Broly penso che quella mossa che fa che lancia le ondette dalle dita spara dalla bocca lancia le fiamme penso che comunque sia preso dal film ragazzi non voglio saperlo non scrivetemelo nei commenti perché al 28 me ne vado al cinema e vedremo un po' come sarà sto film vabbè qua quanto ti ecco che si infondono tu pensa che uno che non ha visto nessun trailer nessun se nessuno spoiler è stato chiuso in casa mesi anni secoli per non saper niente perché poi ti arriva poi ti arriva la seconda parte del film pam gogeta tu dici ma che cazzo cioè veramente boh cioè mi immagino io personalmente io comunque di gogeta l'avevo già detto anche qua nel canale l'avevo già detto c'erano troppe coincidenze per far capire che arrivasse gogeta vabbè in questo caso gogeta buru ma tu pensa che c'erano gente che non voleva sapere nessun tipo di spoiler e posso anche capirla nel senso te lo godi di più senza sapere niente cioè io penso al nostro hype nelle sale o davanti al computer penso al momento in cui vedevamo goku e vegeta fondersi e lui non lo sapevamo cioè non sapevamo che doveva essere rivali gogeta per battere brolin cioè sarebbe stato quella cosa di meraviglioso però vabbè ormai ma si tanto prendiamoci qualche danno vediamo se riusciamo a farlo fondere diciamo un po' di merda dobbiamo prendere danni comunque ragazzi vi dico che dopo questa dopo il 25 stamina per vedere un po' com'è che devo dire che vabbè che sto usando il potara quindi è possibile perdere però è veramente molto easy il 25 stamina bello da fare è quello di culerar di culerar GL quello è veramente bello ma questi guarda sono proprio una cagata cagata assurda non riesco neanche a farlo fondere ma è poi vegeto comunque ma che figo minchia cazzo stavo dicendo comunque finito il 25 stamina vi metterò il primo giro su Gogeta e speriamo di di beccarlo perché mi farebbe comodo non tanto quanto per la carta perché comunque ve l'ho detto vi dimenticherete di averla ma veramente nel vero senso della parola Broly no Broly alla fine l'utilità l'ho trovata in tanti team come io mi dimentico di avere il metamore nel box e comunque ci stanno uscendo così tanti team veramente belli cioè anche lo Shadow Dragon adesso è bello da usare ragazzi sul Jap cioè quanto cazzo è figo usare Omega Sin Goku LR Vegeta LR Gogeta Super Saiyan 4 e Goku full power cioè bellissimo gira come non so cosa le turnazioni sono strafacili e minchia e arriva un momento in cui ti dimentichi di avere il metamore uno dei team più forti usciti ai tempi cioè mi ricordo quando uscire lo Shadow Dragon e il metamore che aveva il metamore faceva tutto ma ad occhi chiusi lo faceva no proviamo a prenderci ancora i danni tanto non li prendiamo missione è far fondere far fondere Vegeta il prossimo turno ma non ce la facciamo stavo dicendo un LR potentissima però è una mazzata a farlo fondere cioè tenete conto che c'è una versione del Potara senza Black LR perché comunque è più difficile anzi è più facile scendere di vita oh Zamasu è dal colpo di grazia minchia 416.000 comunque avete visto easy easy un team che proveremo con molti altri team a meno lo proverò io poi dopo vi farò sapere un po' come si come si comporta magari il ballone è un pochettino difficile vi giuro che non l'ho mai provato sul Topan e volevo solo comunicarvi che mi viene da ridere adesso faccio partire il videopull ero in bagno a registrare in bagno cioè mentre facevo una cosa una delle cose più belle che c'è al mondo che ti rilassa che ti fa stare ti fa sentire Dio sceso in terra ho detto ciao proviamo a farla multi su su Gogeta e vi lascio vi lascio voi comunque i commenti per dopo quindi ragazzi ci vediamo tra tre secondi 3 2 1 ci siamo abbiamo avuto un piccolo problema nell'eliminazione comunque è uscito solo Krillin roba buona quindi abbiamo un PG banner ragazzi partiamo Super Saiyan 3 Super Saiyan God perfetto ancora meglio ancora meglio ancora meglio allora nella prima multi off camera ho trovato Vegeta quello che diventa God quindi qua vediamo Shugash si subito cazzo Gogeta subito cazzo subito cazzo si si e ci riportiamo a casa Gogeta Gogeta amore ho trovato Gogeta possiamo andare al cinema al 28 vai possiamo andare felici possiamo andare felici Goku God perfetto ok non mi serviva niente vaffanculo posso andare al cinema felice adesso posso andare al cinema mostrando il mio bel Gogeta blu a 45 stone che bello 35 cazzo dico 35 stone la soddisfazione adesso si va su Broly finiamo il giro comunque vabbè finiamolo puntando adesso chi puntiamo l'ability 1 schifo non mi farebbe certo che però vabbè no Gotenks ecco se mi dai Gotenks sono contento ma sicuramente non mi darei Trunks Trunks fisico ah non è finita pensavo fosse già finita dai più altra di merda cosa mi puoi dare Gohan ok no che schifo QCL però ci portiamo a casa subito con Geta o nel Jap vabbè che ci ho speso pochissimo però nel Jap è un cazzo proprio Gohan ok PG Banner aspetta PG Banner era Gohan o Junior o solo Gohan mi pare Gohan e Junior quindi aspettiamoci qualcosa in teoria in pratica vedremo allora Gohan Kid Vegeta Vegeta Kyurilin fascia la bagascia abbiamo un altro Vegeta ma vai vuol dire che non c'è niente neanche la free ok PG Banner non esiste allora Vegeta buffer ma cos'è forse a full ability adesso l'abbiamo portato cioè